siamo di nuovo qui a parlare di tempo il tempo a disposizione il tempo a disposizione è uno degli elementi principali appunto per eseguire un'esposizione su un fotogramma o una fotografia vi ricordo che i tre elementi sono iso o gain tempo diaframma il tempo è l'elemento più differente tra foto e video sono completamente differenti nel video è quasi un elemento quasi invariabile e poi vedremo perché nella fotografia a viceversa è molto 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 variabile a seconda di quello che vogliamo ottenere se vogliamo ottenere un effetto panning bisogna utilizzare un tempo un pochino più lento di solito l'effetto panning si fa su un oggetto in movimento una macchina in corsa un corridore qualcosa che si muove velocemente in uno spazio per effettuare una foto di uno sportivo o di un oggetto in movimento si utilizza un tempo veloce se vogliamo ottenere un effetto panning cioè il soggetto a fuoco e lo sfondo sfocato o meglio mosso perciò crea un effetto di scia bisogna seguire con la camera il nostro soggetto in movimento e scattare con un tempo un pochino più veloce di quello che faremo per ottenere una foto completamente nitida perciò noi simuliamo con la camera il movimento del soggetto e assieme a lui lo teniamo non sfocato o meno non mosso e lo sfondo di conseguenza viene mosso questo è uno dei motivi per cui il tempo variabile c'è utile o se no un altro esempio potrebbe essere un tempo molto lento facciamo una foto di un interno o di un interno di una casa siamo su cavalletto vogliamo utilizzare le luci naturali possiamo utilizzare un tempo lento perché non c'è niente di mosso in un altro soggetto sono cose statiche un altro modo perché vorremmo utilizzare un effetto lento potrebbe essere vogliamo fare un effetto speciale per esempio fotografiamo una cascata vogliamo avere l'effetto dell'acqua sfocata che diventa tipo spumosa che diventa molto morbida un effetto molto bello perché fa naturalistica e ne è fatto molto usato ed io utilizziamo un tempo lento o se no ma viceversa vogliamo utilizzare un tempo molto veloce perché vogliamo fotografare una goccia d'acqua che cade per fotografare una goccia d'acqua che cade dobbiamo utilizzare un tempo molto veloce per gelare per immortalare quel momento della goccia d'acqua che sta cadendo e diciamo che il tempo è molto vario in fotografia e possiamo sbizzarrirci è uno dei tre parametri che possiamo usare molto mentre nel video no nel video c'è una regola che per utilizzare la miglior motion blur perché nel video noi vogliamo l'effetto mosso per esempio se noi utilizziamo un tempo molto veloce nel video io faccio questo movimento qua voi vedrete la mia mano che fa una frame due frame tre frame e vedete sembrerebbe scattosa mentre noi nel video vogliamo tenere un effetto più naturale possibile perciò utilizziamo un tempo che adesso vi dirò qual è in modo di avere un frame dopo l'altro ma che sarà la mano qua con un po' di scia la mano qui con un po' di scia la mano qua con un po' di scia in modo che quando mettiamo il frame in fila abbiamo un video fluido qual è questo tempo? di solito questo tempo è il doppio del frame rate allora il frame rate sono quanti frame noi abbiamo per secondo il cinema usa 24 in Europa in generale il web usa 25 in america 30 frame per secondo prendiamo 25 che è quello più usato per il web vuol dire che ne abbiamo 25 fotografie in un secondo per fare un video un secondo di video sono 25 fotografie se noi queste fotografie le scattiamo al doppio del frame rate vuol dire più o meno serve un 50 un cinquantesimo di secondo ok vuol dire che ne stiamo facendo 25 foto a un cinquantesimo di secondo per avere un motion blur si chiama un effetto o una sfocatura di mosso molto piacevole all'occhio umano diciamo che è quella più adatta che è quella consigliata ci sono delle varianti ci sono dei momenti in cui anche in video si può cambiare il tempo si può usare un tempo più veloce per dare un effetto di confusione per esempio su una scena action possiamo utilizzare un tempo un pochino più veloce per far sì che questa venga scattosa disturba un effetto che sia fastidio ma che ci fa calare nella scena del film o viceversa avere un effetto con più blur più sfumature per esempio vogliamo fare simulare una persona che sta perdendo i sensi potrebbe essere sì utilizziamo un tempo ancora più lento in modo da avere tutto un pochino più sfocato però diciamo che non è variabile come nella fotografia il tempo perché c'è questa regola del doppio del framerate? le videocamere come potrebbero essere l'entry level ovvero le mirrorless o la Canon 5D Mark II non usano l'angolo di scatto ma usano la shootout speed come una macchina fotografica mentre le videocamere usano l'angolo di scatto l'angolo di scatto perché appunto è un parametro che deriva dalle videocamere come regola si è sempre usata perché nel tempo è stato notato che l'angolo di scatto migliore era a 180 gradi praticamente c'era questo movimento circolare c'è questo movimento circolare nelle macchine analogiche dove fa passare davanti al negativo o al sensore la tendina questa tendina si muove in questo movimento circolare e quando questo cerchio faceva 180 gradi passava un frame in questo modo si aveva il 180 gradi perciò il doppio della fotogramma per secondo cosa ha il tempo? il tempo è un parametro nella foto e video che noi dobbiamo considerare come una porta ok di qua della porta c'è il sensore o negativo o pellicola noi apriamo la porta facciamo entrare una quantità di luce e chiudiamo perciò se la quantità di luce ha un tempo lungo e noi ci muoviamo noi creeremo una scia, un movimento all'interno di questo frame per esempio, vi faccio un altro esempio una foto di night club ok, notturna discoteca cosa succede? di solito potremmo avere una luce led per illuminare il soggetto che stiamo fotografando o una luce flash io consiglio fortemente la luce flash adesso è un po' che non vado più in discoteca però nell'ultimo periodo quando qualche anno fa quando ancora ogni tanto ci andavo vedevo questi videomaker e fotografi che per facilitarsi il lavoro facevano sia foto che video utilizzavano un led e potevano fare le foto con led è vero però il led è molto meno potente perciò cosa succede? bisogna usare un tempo di scatto più lungo ma non troppo lungo perché comunque in discoteca le persone si muovono molto perciò dovevano fare gli ISO mentre col flash può usare un tempo di scatto molto più corto perché il flash è molto più forte e tenere gli ISO bassi perciò non avere la grana avere una buona qualità ma quello che vi consiglio che secondo me è molto riuscito e ho fatto per qualche anno delle foto in un locale a Londra anzi più di uno quello che piaceva fare a me era quello di avere un flash abbastanza forte gli ISO bassi e tenere un tempo lento perciò cosa succede? che tutte quelle cose illuminate da una luce continua come potrebbe essere quella che sta illuminando a me adesso o una luce del locale o qualsiasi luce che comunque è continua non ha un lampo come un flash viene comunque sia mosso ma il flash avendo una potenza molto più forte gela, congela tutte quelle cose che colpisce cioè i soggetti vicini quello che te stai riprendendo perciò abbiamo un effetto molto bello del soggetto a fuoco e tutto il dietro sfocato perché abbiamo un tempo lungo perché il tempo quando utilizziamo un flash il flash è un lampo perciò è un tempo di per sé perciò il tuo negativo sensore registra quella luce molto forte perciò il tempo possiamo darlo anche con una luce? sì il tempo è luce cioè col tempo catturi la luce però se la luce è un flash è un tempo è un tempo è un tempo